Bastano un visore e due joystick e sei al Festival di Venezia, grazie al Laboratorio Aperto di Piacenza che quest'anno ha aderito al Satellite Program di Venice VR Expanded, la sezione di virtual reality della 77esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Il Laboratorio dell'Exchiesa del Carmine sarà fino al 12 settembre uno dei satelliti della Biennale, soluzione innovativa creata per rispondere ai disagi legati all'emergenza sanitaria del Covid-19. La Biennale di Venezia ha deciso di dare l'opportunità di accedere ai contenuti immersivi di Venice VR Expanded, 40 progetti provenienti da 24 paesi del mondo in istituzioni culturali satellite senza dover viaggiare fino a Venezia. I visitatori avranno accesso a tutti i contenuti del Venice VR Expanded e potranno scegliere autonomamente quali film vedere attraverso i visori. Per partecipare sarà necessario acquistare il biglietto online direttamente sul sito del Laboratorio Aperto di Piacenza, scegliendo giorno e orario preferito. Ci sono esperienze di vario tipo, che sono di animazione, più di giornalismo, e sono esperienze immersive, hanno questo tratto distintivo, quindi fanno entrare lo spettatore all'interno del film, all'interno del cartone animato per viverlo proprio a 360 gradi e con la possibilità di interagire con i contenuti, quindi diciamo che c'è una dimensione ulteriore rispetto al cinema tradizionale.